Una delle cose che mi viene chiesta più di frequente negli ultimi tempi è come mettere insieme qualche elemento per potersi registrare. In particolare per poter registrare la chitarra acustica e la voce. Ci sono tantissime persone che non solo studiano uno strumento, studiano canto, ma scrivono della musica o anche se non la scrivono avrebbero piacere di potersi registrare. Ora ho pensato di mettere insieme degli elementi che ci possano aiutare in questo senso. Se non si ha nessuna dimestichezza non si sa in che direzione andare. Quali sono gli elementi fondamentali? Dando per scontato che non suggerisco il computer da provare perché do per scontato che il computer già lo si abbia e in questo caso non sto parlando di come riascolteremo. Ci vogliono delle casse o delle cuffie? Dedichiamo un capitolo a parte a questo perché in questo momento mi voglio dedicare soltanto alle cose che ci servono per registrare. Gli elementi assolutamente basilari per registrarci su un computer ovviamente sono una scheda audio, il computer è generalmente dotato di una scheda audio ma non è predisposta, non è adatta al lavoro che vogliamo fare. Una scheda audio, due microfoni, ho preso due tipologie diverse di microfoni, un microfono a condensatore e un microfono dinamico che in teoria dovrebbe essere per la voce mentre quello a condensatore per la chitarra ma potremmo sperimentare invertendoli, un'asta che li regga entrambi perché quando si hanno due microfoni bisogna che si reggano entrambi e quindi c'è un'asta fatta apposta che ne può ottenere due e un paio di cavi. In questo modo abbiamo gli elementi essenziali per poter entrare con il nostro suono nei microfoni con i microfoni nella scheda audio con la scheda audio nel computer. Naturalmente bisogna tenere in considerazione una cosa, per registrare sul computer c'è bisogno di un software. I software dedicati a questo uso si chiamano Digital Audio Workstation, DAW, le famose DAW. Ce ne sono di moltissimi tipi, ognuno si trova meglio con quella che preferisce. Vi posso suggerire, visto che stiamo parlando comunque di spendere il meno possibile, di provare un software che ho avuto modo di provare e che nella sua versione base ma estremamente efficace è gratuito. Si chiama Reaper, Reaper, metterò il link nella descrizione del video. È un software che sicuramente ci può aiutare in questa nostra ricerca del suono perché altrimenti con tutte le cose che abbiamo, compreso il computer, poi non sappiamo dove registrarci. È veramente la cosa più essenziale che si può mettere insieme. In realtà nel bundle, come vedrete, c'è anche una piccola cosa per chi non volesse mettersi a comprare tutti i diversi elementi e farli funzionare, che è molto più divertente in realtà e dà un risultato anche molto più soddisfacente. Comunque, tutti questi elementi messi insieme, per quelli che ho scelto, ci fanno arrivare ad una spesa che è sì e no intorno ai 200 euro. Ripeto, bisogna avere il computer e bisogna avere poi un modo per ascoltare quello che si è registrato. Quello che mi interessa è che questi elementi ci sono oggi messi a disposizione dalla tecnologia, che un tempo per avere questo risultato ci costringeva andare in uno studio e spendere moltissimi soldi o addirittura avere un contratto discografico, una casa discografica che pagasse le registrazioni in uno studio professionale. Oggi si possono avere ottimi risultati anche a casa. Ovviamente, se si parla di elementi come questi, stiamo parlando veramente di entry level, cioè meno di così non si può spendere. Si cerca di mettere insieme qualche cosa che possa avere un funzionamento decente. Chiaramente la qualità che andremo a avere nei vari elementi sarà la minima indispensabile. Quindi non bisogna mai dimenticare che ci sono professionisti che 200 euro li spendono per un cavo. Quindi quando si ha tutta la strumentazione per registrarsi allo stesso prezzo bisogna chiaramente rendersi conto del tipo di investimento che si è andati a fare. Ma con una spesa veramente minima, perché è una spesa veramente minima, si può intanto cominciare a capire come funzionano determinate cose. Questo è fondamentale per poter entrare in un mondo in cui non sappiamo, di cui non sappiamo ancora nulla e che però ci permette di sperimentare, diciamo con una replica molto economica di quella che è la strumentazione che usano i grandi professionisti. Per questo poi probabilmente ci saranno un paio di puntate aggiuntive con degli elementi un po' più costosi, ma comunque si può cominciare a sperimentare mettendo insieme tutti gli elementi. Due piccole aggiunte. La prima è che in questo bundle ho aggiunto anche in alternativa, in realtà non è in aggiunta, uno di quei piccoli registratorini con i microfoni per i quali basta metterli davanti a sé mentre si suona e si canta, spingere rec e cominciare a registrare. È la cosa più semplice, è come avere il proprio telefonino, forse si può fare anche con il proprio telefonino, ma sono macchine dedicate che ci permettono di avere un file audio a un certo punto di una qualità decente. Per chi non volesse appunto mettersi a trafficare con schede audio, cavi, interfacciarsi col computer, che è molto più divertente in realtà, ma può anche creare qualche difficoltà a chi non è avvezzo alla tecnologia. Dall'altra parte volevo chiudere parlando per un momento di come ci si riascolta, perché una volta che si è registrato, ascoltare dagli speaker del computer se si ha un portatile o anche dalle cassette del computer se si ha un computer fisso non è la cosa migliore. Qui però bisogna dire delle cose piuttosto importanti. I monitor, cosiddetti monitor da studio, possono costare un sacco di soldi e soprattutto dopo aver speso un sacco di soldi per i monitor, se la stanza in cui ascoltiamo non è trattata, i monitor sono quasi completamente inutili o comunque noi crederemo di stare ascoltando qualche cosa che in realtà non sarà. A questo proposito probabilmente potrebbe essere più utile comprare un paio di cuffie. Si trovano cuffie discrete già a cifre abbastanza abbordabili, anche lì bisogna stare attenti che la cuffia abbia una resa abbastanza fedele, abbastanza almeno, perché altrimenti si rischia di riascoltare qualche cosa di completamente diverso. Si possono anche attaccare le cuffiette che si hanno del telefonino alla scheda audio con un adattatore e provare a riascoltarsi. Ovviamente non è il consiglio che vi sto dando in questo momento, perché altrimenti tutto quello da cui siamo partiti rischia di essere abbastanza inutile. Resta il fatto che ascoltare come editare il suono che si è registrato fa parte di un mondo che non è quello del compro la scheda audio, il microfono e collego, fa parte di un altro mondo che bisogna imparare a gestire. Quale modo migliore di imparare a gestire qualche cosa di nuovo se non facendo un passo in quella direzione e quindi prendendo una piccola parte di strumentazione che potrebbe già essere sufficiente per farci divertire iniziare. Spero che sia stato un buon punto di partenza. Ci vediamo alla prossima.